De coniurazione Cattiline è un'opera di Sallustio e qui Cattilina incoraggia i congiurati alla rivolta, siamo al ventesimo capitolo. Per conoscere di più su questa opera di Sallustio vi rimando al mio sito dove ci sono altre registrazioni dei capitoli precedenti. Sallustio qui vuole presentare un Cattilina molto differente dal Cattilina che ci presenta Cicerone nelle sue Cattilinarie. Cattilina in fondo contesta una certa situazione che si è venuta a creare nello Stato romano, ne parlerà ancora tacito, una corruzione di fondo dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. Quindi Cattilina si presenta come un giustiziere sociale, vuole maggiore democrazia, vuole maggiore libertà, vuole una repubblica sia veramente tale e che non sia solo di nome. Vediamo quali sono le parole con le quali Cattilina incoraggia i congiurati a impegnarsi in questa lotta che sarà certamente molto ma molto difficile. Cattilina Cattilina Abbui Allora, noi dobbiamo fare molta attenzione a quelle particelle che ci introducono delle subordinate. Ubi, quos, quos non c'è dubbio, è una relativa, quos Paolo Anteo Morali, inizia con il pronome relativo, termina col predicato verbale. poi abbiamo un eos con venisse, dove c'è un'infinitiva un soggetto inaccusativo e un verbo all'infinito quindi questo ubi sta con videt ubi, videt, ubi potrebbe introdurre una locativa ma potrebbe anche introdurre una temporale ubi vuol dire come quando, ma potrebbe anche voler dire dove qui però dove vede ma è meglio una temporale quando vede quindi noi abbiamo ancora accolto la principale poi qui c'è un tamezi e si tamezi e siam si quam bis quam su tutte congiunzioni che introducono le concessive e poi comincia con la congiunzione concessiva termina con il verbo Egerat poi c'è un tame, quindi Caterina tamezi in renfore di nuovo è un'infinitiva perché trovare un fore per lo più è un infinito futuro che si usa in una infinitiva poi c'è credence ma credence, attenzione non può reggere una proposizione principale perché è un participio presente e le proposizioni principali coordinate alle principali hanno il verbo in forma esplicita anzi credence si sarebbe dovuto mettere un altro colore ma qui non avevo più colori a disposizione credence dovrebbe essere un'altra subordinata che regge poi in renfore poi ci troviamo di nuovo con una infinitiva anzi due infinitiva appellare il cortare universos ed eccola qui che riappare la proposizione principale in abitam partem enium secedit atque c'è un'atque quindi vuol dire che c'è una coordinata la principale atque ibio razionem oiusce modi avoit questa con omnibus ablativo arbitis ablativo amotis participio passato in ablativo chiaramente è un ablativo assoluto perciò volendo possiamo anche tradurre senza andare subito a cercare la principale traduciamo nella stessa costruzione che troviamo in latino Caterina quando vede che cosa? che quelli che poco prima memoravi ho ricordato ho nominato convenisse si erano riuniti quindi come vede che quelli si sono riuniti tamezzi sebbene andiamo sempre al verbo e gerato è sempre Caterina il soggetto multa il complemento oggetto letteralmente sarebbe sebbene avesse fatto spesso molte cose con i singoli letteralmente ricordiamoci che tamezzi in latino vuole l'indicativo noi in italiano la concessiva la troviamo col congiuntivo oppure con pur e il gerundio quindi sebbene avesse trattato spesso molte cose con ciascuno di loro tuttavia Credence al nominativo ce lo fa concordare con Caterina credendo dunque qui c'è un fuore fuore è evidentemente il verbo essere se però io lo traduco semplicemente con essere non riesco a rendere significato se voi andate a cercare sul dizionario trovate anche sumes fui esse col significato di essere a vantaggio perciò credendo tuttavia credendo che sarebbe stato a vantaggio in REM complemento appunto di vantaggio perché inquio accusativo può anche reggere lo svantaggio e il vantaggio come complementi sarebbe stato a vantaggio della cosa quindi o noi diamo a fore il significato di essere a vantaggio oppure diamo anche semplicemente il significato di sarebbe stato poi a vantaggio della cosa lo traduciamo con INREM perché INREM è un complemento di vantaggio cos'è che sarebbe stato a vantaggio INREM io ho detto della cosa ma dell'azione del progetto quello cioè di portare avanti questa congiura e combattere contro le forze forti dello stato chiamare e esortare tutti andiamo alla proposizione principale questa vedete è un'indoppia infinitiva soggettiva che dipende da INREM fuori secedit si appartò in una parte nascosta dell'edificio e lì e qui l'ablativo assoluto dove noi traduciamo letteralmente mandati lontano tutti arbitris potremmo dire tutti i possibili testimoni ebbe tenne orazione un discorso uiusce modi proprio di questa maniera vedete che qui abbiamo uius cioè il genitivo di che che fa uius 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 uic 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 il c'è è un rafforzativo di uius e io ci aggiungo in italiano proprio ebbe tenne una abbiamo detto un sermone un'orazione proprio di questo modo vediamo le parole di Caterina anzitutto ricordiamoci che ni in latino vuol dire nisi è come se ci fosse scritto nisi se non il se lo dobbiamo mettere subito il non dobbiamo metterlo vicino al verbo nisi virtus et fides vostra spettatami forent ne quicquam opportunares cioè ci disse spes mania dominatio imanibus frustrafuisse neque ego per ignami amaut vana ingegna incerta procerti scaptare quindi noi abbiamo qui una ipotetica una ipotetica dell'irrealtà perché come vedete indipendente perché come vedete la proposizione principale è la proposizione che regge la condizionale e abbiamo verbi all'imperfetto congiuntivo o al più che perfetto congiuntivo forent ricordatevi che è l'altra possibilità di essent dire essent dire forent è la stessa cosa è un imperfetto congiuntivo attenzione un'altra cosa spectata forent è da mettere assieme come mai c'è un neutro plurale spectata forent perché i soggetti virtus e fides sono due soggetti inanimati femminili e quando ci sono i due più soggetti femminili non stiamo parlando di animati di persone parliamo di inanimati allora la concordanza può essere o al femminile o al neutro quindi spectata è un aggettivo che o un participio passato che si concorda con virtus e fides quindi se il vostro valore e la vostra parola non fossero state chiare a me in vano res opportuna questa situazione opportuna ceci disse si sarebbe presentata la grande speranza il potere in vano sarebbe stato sarebbero state nelle nostre mani quissen plurale perché due sono i soggetti spesse dominazio ne io captarem cercherei io cercherei vedete che io sempre cerco di partire dal soggetto verbo e poi cerco il complemento oggetto quindi cercherei che cosa attenzione che qui ci si potrebbe confondere vediamo di capire come dobbiamo ragionare c'è un per io ho sempre detto che le preposizioni semplici e le preposizioni impropri sono importanti perché ci danno una reggenza il per regge l'accusativo quindi per mi regge gnaviam ma non solamente gnaviam perché c'è un out è coordinante questo out e quindi questo per mi traduce mi regge anche vana ingegna quindi non vado a mettere vana ingegna come complemento oggetto di per captare perché questo non è un accusativo semplice è un accusativo retto da per quindi l'unica cosa che mi rimane è incerta né io cercherei cose incerte al posto delle certe ricordiamoci anche il significato di proprio oblativo però ha molti significati però può reggere un complemento di vantaggio può voler dire davanti o semplicemente può reggere un complemento di sostituzione scambio in questo caso regge un complemento di sostituzione scambio cercherei le cose incerte al posto delle certe attraverso che cosa attraverso la vostra acilia ignavia o attraverso ingegna vana delle personalità vane incapaci delle persone vane degli ingegni vane poi naturalmente troviamo si trovano i vocaboli più adatti sed quia multis et manis tempestatibus vos coniovi fortis et fidus mi io animus autus est maximum atque pul carrum facidus in cipere simul quia vobis e adem que mi buona malacque esse intellexi nam beh vediamolo dopo il nam visto che siamo dopo le punte virgola allora il quia introduce una causale e notate che di causale ce ne sono due quia coniovi e quia intellexi perché quia intellexi perché que mi c'è una relativa è un'infinitiva quindi io questo qui devo concordarlo attaccarlo e non concordarlo attaccarlo ad intellexi quindi abbiamo due causali due causali la proposizione principale che rimane è questa eo animus ausus est attenzione al maximum che sono forme arcaiche utilizzate spesso da Sallustio e vuol dire maximum la u al posto della i atque pulcherimum ma poiché subito il verbo è ho conosciuto voi fortes et fidos come faccio sapere che fortis vale per fortes ma perché c'è un e che unisce fortis con fidos quindi anche fortis si deve trovare nello stesso genere numero caso di fidos quindi questo fortis vale per fortes ed è un accusativo plurale quindi io vi ho conosciuti come un complemento praticativo dell'oggetto come uomini valorosi e fedeli multi settimanis tempestatibus potrebbe essere un complemento ma un complemento di causa un complemento di origine da molte e grandi situazioni da situazioni molteplici e manis e gravi questo eo l'eo è abbastanza difficoltoso perché potrebbe essere un eo in correlazione con eo quo ma qui il quo non c'è potrebbe essere un avlativo di iseahid ed è un avlativo di iseahid ma qui ha valore di congiunzione ha valore di perciò per questa ragione bisogna capire perché qui come avverbio di luogo assolutamente non ci sta ma eo per questa ragione animus io aggiungerei un mio aggettivo il mio cuore ausus est da audio audus suma udere è un semideponente ha usato incipere intraprendere attenzione che qui è un unico predicato verbale perché ha un sus est un servile quindi non ci sono due verbi si ma con un unico predicato verbale ha osato intraprendere facinus un'impresa maximum grandissima e bellissima allo stesso tempo questo simul unisce qui all'altra proposizione causale allo stesso tempo poiché intellessi ho capito che cosa ho capito andiamo all'infinitiva io vi ho sempre insegnato e ci sono queste cose nelle mie regole pratiche di traduzione manualo pratico di traduzione di fare al contrario di quello che si fa in matematica in matematica prima si svolgono le parentesi rotonde all'interno poi si passa ci si allarga si svolgono le parentesi quadrate poi le parentesi grafe questo invece si deve fare al contrario bisogna cominciare da fuori no? quindi io sono iniziato ho iniziato da quia intellessi poiché ho capito e a questo punto vado dentro ho capito che cosa dunque buona et mala esse vobis e adem quindi cose buone e cose cattive sono a voi le stesse che a me e qui abbiamo quindi un dativo di possesso perciò in una traduzione libera io scrivo ho capito il vobis diventa soggetto che voi avete come buone e come cattive le stesse cose che ho io perché mio è un dativo di possesso vobis è un dativo di possesso in italiano diventano soggetti qui c'è un sunt sottinteso questo buon et mala potrebbero essere due complementi praticativi dell'oggetto dove l'oggetto è adem movinto eh complementi praticativi dell'oggetto nella trasformazione italiana perché in latino questi sono dei soggetti buon et mala sono complementi praticativi del soggetto e adem poi evidentemente con la trasformazione italiana il soggetto diventa complemento oggetto e il dativo di possesso diventa soggetto quindi ho capito che voi avete come buone e cattive le stesse gli stessi pensieri le stesse cose che ho io nam idem velle atque idem nolle ea daemon firma amicizia est infatti qui abbiamo di nuovo delle infinitive velle et nolle e quindi cominciamo sempre dalla parte esterna dalla proposizione principale infatti quella infine è un'amicizia sicura e poi abbiamo l'esplicativa volere la stessa cosa e nolle non volere la stessa cosa se dego quemente agitavi omnes amante divorzi audistis attenzione che qui abbiamo una sincope dove audistis sta per audivistis ma dunque da quello che io ho insegnato la proposizione relativa dovrebbe iniziare col que molto spesso questo non capita no sbagliato dire molto spesso a volte questo non capita e come faccio io capire che ego non appartiene alla proposizione principale ma appartiene alla proposizione relativa è molto semplice i verbi perché il verbo della proposizione principale è in seconda persona plurale mentre il verbo della proposizione relativa è in prima persona singolare quindi ego sta nella proposizione relativa perciò incomincio con la principale ricordatevi ho detto che audistis è una sincope sta per audivistis ma voi avete udito e poi questo voi avete udito ha degli attributi voi tutti già prima avete udito divorzi divorzi sta per diversus diversi voi tutti diversi avete udito che cosa avete udito quelle cose che io ho agitato nel cuore questa è la traduzione letterale poi una traduzione più libera ma voi per strade diverse ma voi tutti per strade diverse avete avete conosciuto ormai già prima quel quei pensieri che io ho covato nel cuore capite allora una traduzione letterale poi la traduzione letterale bisognerebbe sempre portarla sul foglio e poi la sia giusta sempre rispettando però i tempi dei verbi con una traduzione più libera ceterum min dies magis animus accenditur cum considero que condicio vite futura sit nisi nos met ipsi vindicamus in libertate questa proposizione principale chiara che qui qui abbiamo cum considero è una temporale cum più indicativo è una temporale poi abbiamo una relativa que condicio vite futura sit ho detto relativa però mi ricorreggo non è relativa nel momento stesso in cui io trovo un futura sit quindi una perifrastica attiva con sim sim sit che si traduce in italiano con il futuro semplice comprendo che mi trovo in una costruzione di consecuzio temporum la quale spesso e volentieri si trova nelle interrogative indirette e poi abbiamo una condizionale allora ceterum del resto animus il mio cuore letteralmente vuol dire l'animo si accende a me di più di giorno in giorno allora indies è una frase fatta vuol dire di giorno in giorno magis vuol dire più il mio cuore si entusiasma io ho aggiunto mio il cuore si entusiasma a me invece di dire il cuore si entusiasma a me io metto il mio cuore si entusiasma si accende di più di giorno in giorno come considero quando considero vedete che questo non è un pronome relativo anche perché concorda con un nome ed è quindi un aggettivo interrogativo quale condizione di vita ci sarà nisi se nosmet nosmet col met è un rafforzativo di nos di nos se proprio noi stessi quindi questo nos nosmet potrebbe essere un soggetto rafforzato da mette da ipsi ma nosmet potrebbe anche essere un complemento oggetto un accusativo quindi potrebbe essere due possibilità se proprio noi vindicamos in libertatem ci rivolgiamo alla libertà oppure se ipsi noi stessi conduciamo verso la libertà nosmet proprio noi una traduzione libera sarebbe se proprio noi ci riscattiamo per la libertà nam pos come repubblica in paucorum potenzio di usat coedicione concessi semperillis reges tetrarche vettigale sess popoli d'azione stipendi a vendere qui c'è una costruzione un po' strana perché perché abbiamo degli infiniti ma non sono infiniti oggettivi perché vedete che reges potrebbe essere un accusativo vettigale sanche ma tetrarche no popoli neanche naziones sì però il fatto che ci sia presente a tetrarche popoli nominativo vuol dire che qui non ci troviamo un'infinitiva allora che cos'è questo s e questo pendere sono degli infiniti storici infiniti storici che per lo più si producono per lo più con l'imperfetto indicativo qui però l'imperfetto indicativo non va la regola ci dice se qualcuno ha un'alternativa la metta pure come commento l'infinitiva non c'è qui sicuro degli infiniti posti in questo modo senza alcuna reggenza e senza avere una proposizione principale non possono che portarci a degli infiniti storici però questi infiniti storici io non posso far altro che tradurli col presente infatti questa è una temporale dopo che lo stato concessi indicione e caduto indicione et in ius nel potere e nel diritto di pochi potenti sempre i re i tetrarchi sono stati debitori a quelli i popoli le nazioni prende le stipendia hanno pagato i tributi lo tradotto sostanzialmente con un perfetto logico un passato prossimo e non dovrebbe essere così perché se si chiamano questi infiniti storici vuol dire che dovrebbero essere tradotti col passato remoto non ho però altre alternative ceteri omnes strenu i boni nobili satui nobiles vulgus fuimus sine grazia sine autoritate i sovnoxi fuimus si res publica valeret formidini essemus dunque fuimus è il verbo quindi la prima persona singolare prima persona plurale quindi tutti questi sono attributi di questo noi sottointeso tutti gli altri noi tutti rimanenti valorosi buoni nobili prevei fuimus vulgus siamo stati volgo senza favore senza autorità obnoxi i sottomessi a quelli quibus essemus formidini ai quali dovremmo essere di timore io ho aggiunto un dovremo come servile si potrebbe dire semplicemente ai quali saremmo questo quibus formidini è un doppio dativo essere di lode a qualcuno essere di disonore a qualcuno ai quali saremmo di timore o questo è un periodo ipotetico dipendente e come tale la condizionale utilizza la consecuzione temporum in rapporto ad essemus quindi un imperfetto congiuntivo di contemporaneità essemus ci dice una ipotesi irreale questo si è un'ipotesi irreale perché effettivamente lo stato secondo catelina non è repubblica proprio perché è in mano di pochi quindi si potrebbe qui semplicemente tradurre se ci fosse una repubblica itaque omnis grazia potenzia onos divizia putillus sunt aut ubi illi volunt novis reliquere pericola repulsa iudicia e gestatemi qui abbiamo solo una proposizione principale con una coordinata ricordiamoci che reliquere sta per reliquerunt pertanto ogni favore potere onore ricchezza sono presso quelli o dove quelli vogliono come vedete c'è già una principale con una coordinata ma poi c'è un'altra coordinata qui nobis reliquere a noi hanno lasciato i pericoli repulsas le repulsas come potremmo dire le proibizioni i giudizi e la povertà qu'e qu'usque tandem pazziemini o fortissimi di nuovo o fortissumi che sta per fortissimi pazziemini è un futuro da pazio al pater spasso sul pati qu'usque vuol dire fino a quando infine tandem vuol dire infine sopporterete sopporterete che cosa questo que è un nesso relativo che viene tradotto con et ec e dunque fino a quando sopporterete queste cose poi al posto di e possiamo utilizzare un'altra congiunzione che vada bene nel contesto e potremmo dire perciò fino a quando insomma sopporterete queste cose o uomini valorosissimi nonne emori per virtù tem prestat quambitam miseram acque inonestam ubi aliene superbi l'udibrio fuéris perde degus amitere ubi di nuovo introduce una subordinata che termina con fuéris quindi quam è emoli per virtù presta presta con presta c'è già il senso della comparazione presta vuol dire meglio e meglio quindi regge una comparativa e meglio che vedete che qui non c'è nella proposizione principale un comparativo né di aggettivo né di avverbio però il comparativo è implicito dentro al verbo nonne è quella particella che può introdurre una proposizione interrogativa che risponde con domanda sì perciò non è forse meglio morire per virtù attraverso il valore con valore quindi che amittere per dedecus amittere vitam perdere attraverso il disonore una vita misera e disonesta dove fuéris sarai stato di scherno all'altrui superbia essere di scherno a qualcuno di nuovo ci troviamo di fronte a un doppio dativo essere capisco che il doppio dativo sia una cosa un po' difficile da capire perché anche in italiano è un costrutto che è antico non c'è più nessuno che dice in italiano non essere di lode a Mario non essere di disonore alla tua famiglia noi in italiano diciamo non disonorare la tua famiglia quindi diventa difficile c'è stato chi mi ha detto non riesco a capire il doppio dativo non riesco a entrare nella prospettiva del doppio dativo perché la semplice ragione è che la traduzione italiana non è più in uso e quindi diventa difficile tradurlo in italiano quando la stessa traduzione italiana non si conosce ma letteralmente è con questo fuéris indeterminato e un tu generico potrebbe essere tradotto con impersonale quando sarai stato quindi di scherno alla superbia altrui questa è una frase fatta vero meno in vero vuol dire ma in verità attenzione che qui c'è indubbiamente un trabocchetto perché noi sappiamo che pro regge l'ablativo attenzione non mettermi prossima deum e hominum perché pro non può reggere genitivo c'è però una frase fatta dove può pro può essere collegato a un accusativo fiden letteralmente sarebbe per la fiducia degli dèi e degli uomini noi traduciamo in italiano in nome degli dèi e degli uomini è un'esclamazione la vittoria est in manus nobis la vittoria è a noi in mano di nuovo ci troviamo con dattivo di possesso dove una traduzione migliore nobis diventa in italiano soggetto e il verbo essere diventa verbo avere noi abbiamo la vittoria in mano etas viget è forte l'età quindi vuol dire siamo giovani animus valet il cuore è pronto attenzione che ho visto delle traduzioni che sono non posso mi qui mettere contro quelli perché contra regge l'accusativo quindi contra può essere o una preposizione impropria e allora deve avere l'accusativo dopo contra il los oppure semplicemente un avverbio e qui è un avverbio al contrario al contrario omnia ogni cosa tutte le cose consenueronto sono invecchiate per quelli a causa degli anni e delle ricchezze consenueru passato prossimo ogni cosa è invecchiata per quelli a causa degli anni e delle ricchezze tantum modo incepto opus est eccetera rex expediet solamente dunque opus voi sapete che opus regge l'avlativo la cosa di cui io ho bisogno o viene messo al nominativo come soggetto o viene messo in avlativo come complemento di limitazione solamente opus est è necessario l'azione è necessario muoversi res la cosa i fatti expediet eccetera risolverà tutte le altre cose cominciamo a muoverci le altre cose verranno di seguito e tenim quismortalium cui virile ingenium est tollerare potes illis divizia superare quas profundant in extruendo mare et montibus quequandis nobis rem familiare messia ma necessaria da esse illos binas autampius domus continuare nobis lare familiare lus qua una messe allora qui oltretutto con un pronome interrogativo e con delle interrogative dei punti interrogativi finali vediamo che c'è una proposizione principale interrogativa è infatti chi può tollerare tra i mortali mortalium è un partitivo a cui è un cuore virile di nuovo è un dativo di possesso per cui cui può diventare soggetto è verbo essere diventare verbo avere è infatti chi può tollerare tra i mortali che ha che possiede un cuore virile che cosa può tollerare e abbiamo una serie di oggettive illis divizias superare che a quelli le ricchezze superare non finiscono mai dobbiamo però terminare con la parola divizias in modo da collegarla col cuas che a quelli non finiscono mai le ricchezze che sperperano proposizione relativa poi abbiamo due gerundivi voi sapete che nel gerundivo il nome che si trova dello stesso genere numero caso del predicato verbale è il suo complemento oggetto quindi mari è complemento oggetto di estruendo montibus è complemento oggetto di equo e quantis e qui sta portando avanti un iperbole no catilina che sperperano nello spianare il mare no nello spianare nel coprire il mare e nello spianare i monti e poi sempre dal tollerare chi può tollerare che a noi ren familiare mezziam a necessaria da esse che a noi il patrimonio di famiglia manchi anche per le cose necessarie a necessaria è un complemento di fine e sempre dipendente da quella proposizione principale interrogativa chi può tollerare che cosa il los continuare domos che quelli costruiscono case due alla volta o più ampiamente più ampiamente è un comparativo comparativo di un avverbio e termina in gius chi può sopportare sempre da quella interrogativa iniziale che a noi non ci sia in nessun luogo nessuna casa destinata alla famiglia quindi anche qui abbiamo un dativo di possesso e come tale quel noi può diventare soggetto e il verbo essere diventa praticato verbale che noi non abbiamo in nessun luogo neppure una casa destinata alla famiglia cum tabulas signa torumata emunt nova diru unt aglia edificant postremo omnibus modis pecuniam traunt vexant tamem summa lubidine divizia sua svincere nequeunt dunque qui abbiamo un cum è certo che se noi vogliamo tradurre starebbe molto bene tutta la parte in verde una serie di proposizioni concessive o avversative però sia le concessive che le avversative non hanno il cum con l'indicativo e quindi io rispettando la sintassi traduco questo cum con l'indicativo come se fosse una proposizione temporale quindi questo cum regge emunt dirunt edificant traunt vexant e poi abbiamo la proposizione principale tamem summa lubidine divizia sua svincere nequeunt perciò quando comprano quadri statue vasi ricchi quando distruggono strutture nuove ne edificano di altre infine traggono denaro in tutti i modi vexant lo sperperano tuttavia nequeunt non possono ridurre le loro ricchezze summa lividine a causa delle loro passioni quindi hanno tanta ricchezza la stanno sperperando in cose inutili le abbiamo già visto nelle frasi precedenti eppure è così enorme la loro ricchezza che non viene mai meno pur seguendo le loro passioni e i loro vizi summa lubidine ad nobis es nobi domi inocchia foris aes alienum malares spes multos asprior denique quid reliqui avemus preter misera anima ma qui vedete che non abbiamo particelle subordinanti quindi sono tutte proposizioni principali coordinate la principale un po' enunciativo un po' interrogative ma a noi è domi è un genitivo locativo a casa nostra la miseria foris fuori il debito quindi di nuovo c'è un dativo di possesso e sarebbe più opportuno trasformare quel nobis dativo di possesso come un soggetto ma noi abbiamo a casa nostra la miseria fuori il debito malares una situazione brutta la speranza molto più grave molto più aspera quindi non soltanto una situazione presente grave ma anche una speranza pressoché nulla per un futuro che si manifesta sempre più buio delico in fondo qui da bemus che cosa abbiamo d'altro tranne una misera vita qui da reliqui reliqui è un partitivo laddove retto da un pronome secondo le regole o concorda con il pronome oppure viene posto al genitivo qui qui ha valore qui di perché non se andate a cercare il suo vocabolario c'è questo significato perché pertanto espergiscimini titubate in illa illa quam sepe optastis quest'optastis sta per optavistis c'è nuovamente una sincope libertas pretere edivizie ed ecus glorgia in oculus ita sunt fortuna omnia ea victoribus premia posuit e ecco quella quella libertà e assieme a libertas che spesso avete desiderato inoltre la ricchezza il decor la gloria sita sunt in oculus sono tutte presenti nei vostri occhi in oculus sita sunt poi troviamo un posuit posuit ha come soggetto perché tutto il resto è plurale è fortuna la fortuna è il destino ha posto che cosa omnia ea tutte quelle cose come premi premi un complemento praticativo dell'oggetto hai vincitore res tempus pericola gestas bellis poglia magnifica magis quamoratio mea vos ortantur res la situazione il tempo i pericoli la povertà ortantur vos è un deponente esortano voi ho mancato ancora un soggetto c'è un altro soggetto allora la situazione il tempo i pericoli la povertà magnifica spoglia belli i magnifici bottini di guerra o un magnifico bottino di guerra ortantur vos vi esorta magis quamoratio mea più che la mia orazione più che la mia queste mie parole quamoratio mea è un secondo termine di paragone retto da questo comparativo ve l'imperatore ver milita me utivini utivini è un imperativo e così l'imperativo dei deponenti e usatemi e uto ricordatevi che regge l'ablativo questo non è un accusativo è un ablativo usatemi e c'è poi un complemento predicativo che si rivolge a me come guida o come soldato neque animus neque corpus avobis aberit neque animus neque corpus né il vostro cuore né la vostra forza aberit aberite composto di eo sia allontanerà da voi ec ipsa ut spero voviscum una consul agam nisi forte me animus falli et vos servire magis quam imperare paratiestis l'inisi ci dice di nuovo che ci troviamo in una condizionale ricordatevi che questo ut spero messo tra virghe in un incidentale quindi non si considera nel complesso della frase perciò agam partiamo sempre dal verbo farò una voviscum una vuol dire assieme è vero che una è anche uno su una uno ma è anche un avverbio assieme con e molto spesso viene collegato al cum soltanto che qui il cum non si vede perché è collegato come suffisso al vovis sarebbe una con vovis assieme con voi quindi io farò assieme con voi consul da console e complemento predicativo del soggetto queste stesse cose ut spero come spero nisi ci può essere solo un qualcosa che ci può fermare se forte attenzione che non vuol dire forte bisogna cercare sul vocabolario e vuol dire per caso il cuore mi dovesse mancare mi manca ricordatevi che mi dovrebbe essere un complemento di termine fallit è un verbo relativamente impersonale e la persona a cui manca viene messa in accusativo e poi esti sparati siete pronti a servire più che a comandare quindi certamente arriveremo al nostro obiettivo che cosa potrebbe fermarci se per caso il mio spirito lo spirito mi manca o voi siete disposti a servire più che a comandare il lo spirito l'u efficienti mi è il ci viene